Gli agrigentini sono a secco, l'acqua si compra pagando a caro prezzo le autobotti, ma oltre il danno arriva la beffa sotto forma delle bollette idriche che gli agrigentini stanno trovando nelle cassette della posta con tanto di quota fissa, canoni di depurazione, spese accessorie e altri balzelli. Quindi intollerabile e si è scatenata la rabbia. I cittadini non intendono sborsare un solo euro per l'Aica, l'azienda idrica dei comuni agrigentini. In particolare i residenti di Fontanelle, particolarmente penalizzati, hanno diffidato l'Aica. Tutt'oggi l'azienda Aica fa orecchio di mercante e decide di non attuare lo storno sull'acqua da noi acquistata privatamente. Quindi in considerazione di questa malagurata situazione, oltre il danno, il disagio che abbiamo avuto, abbiamo anche la beffa di dover pagare per due volte l'acqua, sia dal privato che dal gestore che non ce l'ha eroga. Alla beffa di questa acqua comprata Aica ci manda le bollette e le vuole pagate. Quindi è questa la situazione nostra, riserve, andare a Bonamorome con i bidoni, riempire e portare a casa. L'esasperazione basta più. Non fare la doccia, scendere da amici o da parenti per andarci a fare la doccia. Proprio non si può sostenere questa situazione. A loro si stanno unendo anche gli abitanti di altri quartieri che non intendono pagare le bollette e sono pronti ad una class action per ottenere il risarcimento dei danni, pronto o n'esposto in procura.